oh questa volta oggi dovrò non mi devo riposare perché mi sono teletrasportato in un posto ok sono caduto non mi muovo più aiutatemi aiuto ok mi sa che mi sono fatto un pochino male perché sto facendo parkour ok ma è sempre affascinato il parkour potrei farlo puoi far parkour con me vuoi preparare il pranzo ok sta già andando bene invece noi ci divertiamo così meglio che la faccio così ok pam farò in giro per tutta la città è molto difficile qui campione ok adesso devo saltare lì pam non ci credo ok poi lì no uh sto per cadere eh sì qua sono caduto ho fallito adesso andiamo avanti perché ho schiacciato la mappa poi qua è il mio luogo di lavoro quindi mi sa che c'è pure il mio capo ecco lì ecco lì pure lei fa parkour? lorenzo? che cavolo fai? parkour? vai vai cammina forza poi lì che è ok vai sì vai vai a casa fai ancora le medie aurora come va? vai a scuola? eh sì che scuola vai? ah questa qua ok è appena uscita di scuola salve permesso bella sta scuola mi piace non c'è il tuo vabbè se ne c'è andata vabbè se ne c'è andata è già il parco divertimenti qui c'è il boh queste cose qua significano sempre qualcosa e non so cosa ma qua c'è una piscina abbandonata ok ci dirigiamo verso una zona che mi han detto dobbiamo passare dal ponte mi sembra molto meglio oh intanto facciamo ancora parkour mi devo allenare le gambe perché non si muovono più visto che non mi muovo più al lavoro ok qua ce n'è di parkour bellissimo questo ponte siamo soprattutto lì c'è la scuola doveva mio fratello ci sono le medie i liceoli poi lì c'è il coso del SOS lì non mi ricordo più cosa c'è c'è un panorama pazzesco lì c'è uno che cavolo è il mio conoscente non lo riconosco andiamo avanti oh che bello qua vedere sempre questa meraviglia questa opera d'arte ok penso che ci sia una scala speriamo non lo devo fare ok sono sceso a banana comunque sta già incominciando sera infatti c'è un tramonto fenomenale sono le 7.08 quindi allora saliamo qui pack 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 comunque secondo me mi dovrebbero assumere per fare parkour magari una volta dovrei fare tanto qua quindi ma adesso io non lo faccio e niente sono caduto qua c'è ci sono le piante qua c'è altro palazzo ufficio cosa così qua mi sa che c'è un deposito oggi sono perché mi sono svegliato alle 7 di mattina oggi dovevo andare al lavoro perché ormai facendo l'avvocato ormai faccio tutto oggi che giorno è ah si oggi è sabato è vero ok allora andiamo qui non si vede nulla ok dobbiamo passare di qua questo parkour sta diventando un po' malefico ok entriendo qua va molto bello qua ci sono le scale questa qua era un castello dove ci aveva il un re bellissimo ma io adesso ci voglio scendere senza farmi male allora qua c'è gente tutti qua sarà conosco infatti aurora 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 sono uscita da scuola perché non va al parco divertimento scusa si ciao ok dobbiamo passare dal punto eh no invece è dal 112 che ho un colloquio con qualcuno dover chiamare magari proprio quello del suo corso ok ok bene abbiamo nato pochissima gente da allora dov'è? non so che fanno la mia rubrica potrebbe essere dicendo eccolo qua e scriviamo salve vorrei fare quello mi piaceva oggi aspetto nel su ma buongiorno buongiorno vuole entrare dentro eh signora oh oh signora 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 dove cavolo è andata signora ma non andare nelle fogne non è lei che devo fare il colloquio ok e per cosa mi cercate? mi sa che non devo parlare con lei perché mi sta salutando tutto il te ah sono sbagliato questo qua è so qui non c'entra niente devo parlare con Matteo no con Cristina che adesso pure questo lavoro parte la cellula per noi Cristina vieni non ti devo fare niente sei tranquillo ok ok Cristi Cristina dov'è? ancora no no qua c'è oh si vabbè sei scesa Cristina andiamo dentro vieni vieni Cristina vieni qua vieni qui Cristina mi sa che deve andare andrea spesso vabbè andrea non lo voglio chiamare perché penso che sia a lezione sta facendo l'esame in terza niente allora Matteo Matteo vieni da me che devo fare un colloque perché te sai che te sai fare il colloque giusto? su su ok ecco qua Matteo sono qui sono qui allora mi vogliono prendere mi volete prendere per cosa? eh guarda qua non abbiamo dipendenti quindi siete solo voi dipendenti si si faccio vedere il computer ecco qui si però Matteo è si è addormentato lo so stanotte non ho dormito va bene non mi interessa allora quindi mi devo scrivere lì? allora mi volete? si scrivi qua ok allora ma sono dentro ok ma è ok mi sento devo andare lì? si ok allora ok metto tutto accetto grazie Matteo no mi faccia Matteo ok dire dove sono andato? ok continuiamo il parkour perché sono qua mi ammazzo mi ricordo che qua c'era l'ospedale non è tanto vedere mi sono spezzato una gamba mi sono spezzato una gamba aiuto ma qua sono in mezzo agli animali aiutate i miei animali ok allora devo prendere qualcosa per andare o l'ospedale qua dov'è l'ospedale? qui qui mi sa che sono pure le sue ok ok devo fare qualcosa mi sono fratturato la gamba ok qua c'è un cavallo salve ma lei io mi sono spezzato ok vado qua 102 ok sono io bene dov'è però signore ok le devo chiamare questo eccolo qui è il ok che si ricorda più è questo qua sicuro che si ricorda più è questo qua venga avete sempre la stessa voce comunque voi beh ok mi sono rotta una una gamba vede la sono rotta proprio rotta spezzata tutta venga lì vada lì ok vada lì ok vado qui mi sta facendo che figata mi sta vedendo le ossa vado il signore lei si è spezzato la gamba dovrà stare qui per sarà ricoverato perché ha qualcosa all'interno ok va bene grazie e rivedere e allora qui dove devo stare vado qui con il letto qua ok preparo le mie cose intanto le sono le mie perché sono ricoverato cavolo mi sono spezzato una gamba infatti effettivamente mi ha messo qualcosa ok allora ciao come va andiamo nell'orto no guarda io non posso andare nell'orto perché sono all'ospedale e che hai fatto questa volta ti è caduto l'altro specchio in faccia no 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 questa volta mi sono spezzato la gamba cosa hai fatto cosa hai fatto la coda adesso non posso dai ok carolina vabbè poi adesso lo dirà Sara Andrea se no la sto chiamando che gomma che è Sara comunque io penso un giro direte adesso li scrivo perché non mi rispondono allora Sara sono recuperato dall'ospedale ho una gamba spezzata ok mi sto chiamando pronto? ma che cavolo hai fatto? perché parli così? eh vabbè ma sei all'ospedale? sì perché prima non parlavi adesso no? perché stavo mangiando? ok vabbè comunque venimi a trovare l'ospedale grazie dai ciao 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 vieni quando vuoi ciao 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 ho visto Sara Sara è caduta per lei non mi dire Sara 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 sono qua sono qua eh sì vedi che mi ha messo un'anestesia sulla gamba e poi vedrò quindi no tutto qua che salute non ho visto la portina comunque io vado su ok c'è per un cavallo sono molto stanco quindi direi di andare iii iii ehi yuppie